ragazzi ho sistemato il volume ragazzi oggi faremo i poliziotti rispondiamo alla chiamata ho mangiato troppe ciambelle tipo quante tipo 28 mi sento svinire mi prende in giro no non lo prende in giro bisogno recentemente di youtube i soccorsi saranno subito da lei paramedici no a me lo consiglia mi dice di portare i paramedici corretto smistamento anche se secondo me c'è vabbè tempo un po colpa sua comunque che si è mangiato 20 ciambelle bene continuiamo rispondiamo allora c'è un incendio nel mio bagno c'è acqua nelle vicinanze non so perché non sono un pulizzo pagare la bolletta dell'acqua i pompieri si pompieri ovviamente non si sta andando a fuoco il questo era logico perfetto riscuotiamo la polizia benissimo da circa un minuto e 50 siamo dei pulizioni poliziotti c'è qualcuno in casa mia ma si trova da si trova da si trova al momento sono troppo impegnato amico no mi ha fatto vabbè comunque ragazzi comunque sto registrando senza connessione visto che c'è così non resterà per sempre dove si trova al momento no dove si trova al momento da adesso seri per favore la polizia allora sì sì certo giustamente la polizia no deve fermare il ladro tocca per riempire la barra ma è urca protezione animali perfetto quando la sbloccheremo vedremo di sapere come utilizzarla mi piace questo basta valutazione mi piace però vorrei un hamburger senza cipolle questo non è un ristorante fast food ma ho fame mi spiace ma non posso aiutarla da qui che cavolo ho fame che cavolo ho fame eh però questo qui questo non è un il mistamento non è necessario dimmi è giusto cioè ma mica questo chiama questo 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 ragazzo chiama il mcdonald c'è vabbè non ho due k va bene questo parlo in inglese a noi di chi commette crimini e infrangere la legge però va fuori secondo me non è necessario perchè ha detto di chi infrange la legge come fa sta vabbè eh vabbè speriamo che stavolta mi va in italiano eh no no ho sbagliato ho cliccato per sbaglio ma è lontano ma quindi sto tipo è serio cioè vabbè tipo di rumori ovviamente rumori di chi commette crimini e infrangere la legge piove fuori le invio subito e si è accorti polizia ovviamente madonna mia che sfiga si dovrebbero arrivare a momenti che dovrei fare resti nascosto ok una pattuglia proprio di poliziotti va bene ragazzi vi voglio avvertire di una cosa il 7 agosto farò un video dove dove perché sarà il mio compleanno e vedremo un attimo un regalo insieme si tratta di fortnite vi dico solo questo rispondiamo a questa maledetta chiamata la mia cucina va a fuoco è uscito dalla casa si la prego mandi i pompieri ahahah allora io ci voglio provare la sua voce è sexy ahahah che diamine questo è il nome delle mesi pompieri e dai abbiamo anche scherzato con la cliente perfetto tecnicamente dovremmo farcela ce l'abbiamo fatta continuiamo continuiamo animal control animal scusate rispondiamo a questa chiamata del giorno 7 mio marito mi tradisce la vita non è semplice eh non so cosa scegliere questo qui va smistamento non necessario ma io avrei provato la cosa io voglio sapere lo stipendio testi ma testi vabbè ah me li ha dati già i 2000 e vabbè 2000 euro alla settimana ma cos'è sto a posto per 30 anni cioè se faccio un anno con questi prezzi sto a posto per 30 anni che ho dato attuale capo capo eh sono capo quindi ho dato tra i tre aggiungere altro però nemmeno aggiungere altro però c'è più unità per un'altra sussione a partecipare eh unità mezzo mille a settimana mille e cinquecento aspetta io un'altra seicentino non lo butterei solo che adesso basta vai rispondiamo mi sono perso e a questo lo dobbiamo aiutare perché cioè non mi piace lasciare la persona persa dove si trova al centro come quindi non ti sei perso non riesco a trovare l'uscita dice sul serio sì manderò qualcuno ad aiutarti io mando la polizia sicuramente sbaglio ah no giusto ma sicuramente devo aiutarlo ah no bene riscuotiamo il furgone degli animali e il giorno 9 inizio così il mio gatto è appena scomparso qual'è stata l'ultima anche anche hamburger vabbè qual'è stata l'ultima volta che ho visto a casa di mia madre per prenderli e possiamo provare a chiamarla lo farò subito ma lei può aiutarmi? ehm un grillo esperti protezione animali perfetto solo che io mo' non capisco come facciano ad aiutarlo vabbè e vabbè acchiappa fantasmi i ghostbusters ma non esistono i fantasmi questo dovrebbe essere vabbè questo centro commerciale va a fuoco ehm quale parte ha detto questo centro commerciale invia la sua posizione tra pesla e tegelo è ferito? no faccia presto lo prego se si dov'è rimando qualcuno se dice che va a fuoco i pompieri no? no perfetto ehm no non mi fanno fare niente perfetto non vedo l'ora di avere il mio stipendio settimanale rispondiamo rispondiamo c'è una donna che sta partendo parto partorendo ho detto partendo dove si trova la donna ehm la donna sta bene un attimo la donna sta bene la donna sta bene forse dai facciamo i gentili codardo più la parolaccia ah no lo devo aiutare davvero ma scusa se sta partorendo non stanno già in ospedale? no magari vabbè facciamo i gentili codardo lo volevo proprio dire donna sta bene vediamo per far nascere cosa no allora ok allora paramedici ma scusa vabbè allora oh ma che outfit prendiamo questo cioè penso che usarò questo quello standard guarda dopo un po' rompe in effetti perché si è bloccato? ok ragazzi un po' bloccato perché si era cioè un po' bloccato il video perché si era bloccato e adesso abbiamo questo nuovo uniforme uniforme perfetto sto avendo un attacco di cuore dove si trova? al terzo piano qual è l'indirizzo? so che è vicino al chiosco di hot dog al chili avresti dove? sto ritracciando la sua posizione presto non si preoccupi i soccorsi stanno arrivando non so chi però scusami io mando i paramedici perché non mi ricordo il messaggio ah c'erano i paramedici la devo tenere premuto forse dai continuiamo sì perfetto no ho premuto troppo no dai ma non ci credo dai ho premuto troppo ed è tornato indietro bene cioè come ballano non penso che ballino vabbè detto questo ragazzi ci possiamo salutare e al prossimo video e al prossimo video